Andrea Leodori, Memorial in ricordo di Giorgio Binki, ma anche un'occasione per testare il vostro grado di preparazione fisica dopo tanti giorni di riposo, almeno sul campo. Sì, è un test importante che ci dà la possibilità di riprendere il ritmo gara in vista della partita di sabato prossimo a Cologna. È un test con tutte le squadre di Serie A, è un test che ci permetterà di vedere il livello degli altri gironi, perché sono tre squadre di un altro girone che non affrontiamo in regular season. Qual è la squadra che più potrebbe mettervi in difficoltà? Sicuramente il Conversano, il Conversano è una squadra pronta per giocarsi il titolo con Fasano e Bolzano, quindi loro sicuramente sono i favoriti del torneo. Ma comunque anche le altre due squadre, Fondi e Gaeta, non sono da meno. È un livello equilibrato che ci giocheremo al massimo.